Leggere il passato per costruire il futuro. Si intitola Il tessile gallaratese, eredità sociale e architettonica urbanistica. Il libro realizzato con il contributo della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e curato da Piero Provasoli e Dario Terreni, entrambi testimoni dello sviluppo tessile della città dei Due Galli. Sono circa 1.550 le imprese attive nel settore, oggi in provincia di Varese, con quasi 13.000 dipendenti e con un export che sfiora quota a un miliardo di euro. L'Italia da sola rappresenta il 40% della produzione tessile europea e si distingue nel mondo per la capacità di sperimentare, ricercare, produrre tessuti intelligenti, capaci di fondere tecnologia e praticità. Fondamentale per la stesura del libro, infatti, il contributo di Grazia Cerini, direttore del Centrocote di Busto Arsizio, leader nell'innovazione. Un volume dunque che desidera partire dalla storia per analizzare il presente e per anticipare il futuro, favorendo lo sviluppo economico del nostro paese. È molto importante come si sta sviluppando il tessile che dalla moda è passato verso i tessuti high-tech, gli smart style, tessuti fatti con filati riciclati e quindi praticamente è un work in progress del tessile. Il libro è diviso in tre parti. La prima parte è quella storica, curata da Alberto Guenzani. La seconda parte è quella dei contributi che sono stati dati su diversi settori, tra cui quello urbanistico, quello di carattere più liberty, quello più di carattere sociale. E la terza parte è quella dei contributi delle società che esistono e che operano ancora in maniera molto efficace nel settore tessile, nei diversi ambiti del settore tessile. Il volume verrà presentato al Museo Maga di Gallarate, martedì 26 novembre, nell'ambito di 2000 libri.